Mister Anastasi, domenica la sfida fuori casa contro il Marsala. Sulla carta sembra una partita abbordabilissima per i bianco-azzurri, ma servirà tanta concentrazione per evitare, spiacevo di conseguenze. Io se dovessi sentire un mio tesserato, un mio calciatore, dire una cosa di questa qua, credo che per tutto l'anno se ne va in tribuna. Anche perché prima di tutto ci vuole rispetto per le squadre avversarie, ci vuole rispetto perché fanno sacrificio anche loro come le facciamo noi. Anzi, a maggior ragione, se uno si guarda dietro e vede che ci sono cose un po' più negative rispetto alla nostra, quindi il rispetto va raddoppiato. Detto questo, noi dobbiamo andare a fare una partita importante, perché secondo me qualsiasi avversario incontri l'Agracassa, secondo me metterà sempre quel pick in più rispetto alle altre. Domenica è comunque l'occasione buona per dare continuità ai risultati? Ripeto, io sono uno che non guarda nella classifica, ancora è troppo presto per guardarla, non guardo gli altri, guardo me stesso, la concentrazione deve essere sempre quella e non c'è altra cosa di mettere in cascina più punti possibili. La vittoria di mercoledì contro lo Schacca innalza ulteriormente il morale dei bianco-azzurri? Più che il morale risalta un attimino la consapevolezza, noi dobbiamo essere consapevoli di essere una buona squadra, non un ammazzo campionato, perché ripeto, in questi campionati qua c'è bisogno anche di giocare di spada ogni tanto e non sempre di fioretto, quindi mercoledì hanno fatto una grossa partita, sono stati concentrati dal primo all'ultimo, chi è subentrato ha fatto una gran partita, quindi ecco questo mi lascia sempre ben sperare, però dobbiamo essere concentrati partita per partita.